Cominciare con un foro, Giugno, 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 Giugno! Giugno Cittore, è tutta giù questa vittoria! 600 minuti della prossima freddo, ormai all'alba di questo finale incredibile qui a Cogli, in pressione Villazza, 4 ore, 36 minuti, 49 secondi, primo a Sestola nel 2016, la sua prima vittoria da professionista al Giro d'Italia, la sua seconda vittoria a Conte di Legna, ancora al Giro d'Italia, siamo ai 400 metri, cambia la base musicale per accogliere in linea d'arrivo questa straordinaria reta che arriva dall'Avrutto, a questa incontra la maglia gialla sotto il franzo, è il tuo momento, è il tuo momento, è tutta tua questa vittoria, è tutta tua! La vittoria di Cogli, ci siamo, sono gli ultimi metri, signori cittori, vi presento in la vittoria di questa quindicesima frazione, sono Dani, il suo nome è Giulio, il cognome Ciccone! Giulio Ciccone che regala un'emozione incredibile e taglia il traguardo, lascia lo fare, si che lo lascia, Giulio Ciccone, campione a Conte!